Questa dolcissima volpina di meno di due anni è Cristina. Cristina, pensate, è stata sfrattata dal posto in cui aveva deciso di mettere al mondo i suoi sei cuccioli perché dicevano che altrimenti lei e loro sarebbero rimasti per sempre lì e non erano desiderati. Quante storie per far accettare la povera Cristina con i piccoli perché loro volevano che andassero via e non ragionavano. Cristina non merita di stare con certe persone, è troppo bella, troppo dolce, troppo affettuosa. Lei merita una famiglia di persone che amano gli animali come figli, che ne abbiano cura per tutta la vita, che non facciano mancare mai coccole, affetto, tutto quello di cui un cane ha bisogno. Ma guardate la Cristina, è stupenda, anzi aspettate, ha allattato, quindi quando allattano il pelo è diventato un po' brutto. Lei ha un pelo lungo, meraviglioso, color crema. Solo 8 kg questa cagnolina. Guardatela, è bellissima. La adottiamo allora questa dolce mammina? I suoi cuccioli sono stati adottati tutti quanti. Ora lei è rimasta sola. Non lasciamola qui in cagnolina, non è possibile. A breve la sterilizzeremo e vi potrà raggiungere. Ovunque goziate. Non c'è problema, lei può arrivare anche al nord Italia. Adesso Cristina, rivolgiti tu alla tua camera e chiedi adottatemi. Non mi lasciate qui. Vi amerò per tutta la vita. Ciao Cristina.